Quali sono le priorità per il Paese? Le priorità sono di continuare con il processo che ha seguito in questi ultimi anni di consolidamento della finanza pubblica, riforme strutturali e misure per riattivare la crescita economica, che stanno finalmente dando qualche risultato, perché si vede oramai dei segni, anche oggi il sondaggio degli imprenditori era molto positivo, quindi qualcosa sta cambiando in meglio.